La storia di un artista italiano che molto giovane ha deciso di inseguire un sogno e trasferirsi a New York. Da ragazzo si fa uomo e da emergente si fa artista di fama internazionale. Questa è la storia di Francesco Clemente. Nasce a Napoli nel 1952 dove trascorre l'infanzia e dopo aver conseguito i primi studi nel 1970 si trasferisce a Roma per frequentare la facoltà di architettura. Qui entra in contatto con vari artisti tra cui sia i Tombli e Alighiero Boetti che influenzano i suoi esordi artistici e che saranno il suo punto di riferimento. Arrivano le prime mostre. Alla galleria di Valle Giulia di Roma tiene la sua prima personale. In questo periodo si arricchia in India, se ne innamora subito e decide di aprire uno studio nella città di Madras che oggi si chiama Kenai. Nel 1974 attraversa piedi l'Afghanistan insieme al suo collega artistico e mentore Alighiero Boetti. Nel 79 si avvicina al movimento della transavanguardia teorizzato dal critico Achille Bonito-Liva e ne diventa uno dei massimi esponenti. Questo movimento ha successo e considerazione prima negli Stati Uniti e poi viene riconosciuto anche in Italia. Negli anni 80 i suoi lavori vengono esposti nella Biennale di Venezia. Comincia il grande successo internazionale. Francesco Clemente inizia ad esporre in numerosissime sedi prestigiose. Ad esempio a Londra o a New York al Metropolitan Museum, all'Art Institute di Chicago. Gli anni 80 infatti sono un periodo di forte fermento. Infatti dobbiamo ricordare le importanti collaborazioni con Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol. Dovendo parlare del suo lavoro afferma sono pensati come appunti di un diario di viaggio interiore. Un pittore spirituale, un pittore la cui identità si fa centro focale della ricerca artistica. Infatti i temi ricorrenti nelle sue opere sono l'autoritratto e l'indagine sul corpo umano. Ama inoltre sperimentare tecniche e materiali sempre diversi, dalla miniatura, al pastello, al mosaico e anche alla fresco. Tutto ciò che è stato legato alla Beat Generation ha contato nella mia vita. Le poesie di Harlan Gisberg, i quadri di Andy Warhol, la musica di Bob Dylan e Jimi Hendrix. Queste le sue parole. Nei primi del 2000 il Guggenheim gli ha dedicato una grande retrospettiva in cui vengono esposte anche le famose collaborazioni degli anni 80. Oggi lavora tra gli Stati Uniti, l'Italia e l'India, oltre ad esporre le sue opere nelle maggiori istituzioni internazionali. Alla prossima puntata con Leroy e Hartburger.